Far vivere ai visitatori che decidono di passare qualche giorno in Barbagia, Mandrolisa e Ogliastra è un'esperienza unica e ripetibile che li mette in contatto con un mondo che per certi versi ha mantenuto un legame con un passato ancestrale in cui le produzioni enogastronomiche sono tramandate di padre in figlio. Raccontare dalle storie familiari o personali che descrivano il prodotto come il vino, il formaggio e l'olio non attraverso schede tecniche asettiche, ma in cui la fatica quotidiana di intere generazioni esca fuori e i prodotti che vanno sul mercato diventino unici. Creare una rete che unisca tutti i 70 soggetti che hanno dato vita alla strada del vino canonau in modo che chi dalla penisola o dall'Europa decide di venire in Sardegna centrale possa immergersi in una natura incontaminata, vivere un'esperienza unica del silenzio, partecipare alla produzione del vino, del formaggio e dell'olio e vada via arricchito dalla trasmissione di un'esperienza di vita che lo renda partecipe di una civiltà millenaria. Se tutto questo avverrà, la vendita del prodotto sarà un fatto naturale e spontaneo che non avrà bisogno di ulteriori pubblicità. E' questa a cui punta la strada del vino canonau, i cui programmi e progetti sono stati illustrati stamattina nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Andrea Soddu, presidente della strada del vino canonau, Davide Becu, responsabile del centro servizi e collaboratori Fausta Moroni e Gabriele Colomo. La strada del vino canonau nell'ottobre del 2013 ha adottato un piano di sviluppo redato da Davide Becu che si propone degli obiettivi a breve termine come quello di far conoscere la strada del vino attraverso tutte le sue potenzialità inserendo il territorio all'interno dei circuiti di commercializzazione dell'offerta turistica specie di quella enogastronomica. Nel lungo periodo si punta ad inserire stabilmente il territorio della strada del vino canonau tra le destinazioni preferite di chi non vuole fare una semplice vacanza ma un'esperienza di vita. L'associazione ha avviato un programma di comunicazione interna che prevede una serie di step per far crescere anche dal punto di vista della consapevolezza del tesoro di cui sono depositari i produttori e i titolari di aziende turistiche. In questo progetto sono stati coinvolti l'antropologo Parchisio Bandino, il regista Giovanni Carroni, i naturalisti Renato Brozzo e Domenico Ruiu. Uno dei prossimi incontri vedrà la partecipazione di Marcello Foise.